Igor era perplesso. Cosa c'entrano i macchinari con la magia? Lu ci spiegò una cosa che le avevano detto i suoi. Magopoli, in realtà, si basava sulla scienza e sulla tecnologia. La maggior parte delle persone non lo sapeva, ma dietro tutte le nostre esistenze e le nostre magie c'erano dei macchinari. Una scienza abbandonata, dimenticata dai più, ma ancora operante. I vapori che ci circondano derivano dalle scorie di Magopoli. Questi macchinari regolano l'evaporazione dei rifiuti. Le persone se ne sono dimenticate, ma i macchinari continuano a funzionare. Macchinari fossili, disse Igor. Fossili vivi, corressi. Non so se un fossile vivo è un fossile, ma insomma sì, disse Lu. Guardate, aggiunse. Indicava una statua antica sulla cui base erano incise due strane parole. Albert Einstein. Deve essere uno dei mostri che abitano oltre la fine del mondo, sussurrò Igor, come se avesse paura di evocarlo. Non credevo a quella storia, però fissare la statua del demone peloso faceva paura. Grazie. Grazie. Grazie a tutti